Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Allora, come avrete letto dal titolo, finalmente oggi vi faccio un video riguardo la mia crescita di capelli Allora, durante l'editing aggiungerò delle foto da questa parte E insomma, per comunque dimostrarvi con tanta rirata perché veramente funziona questo prodotto Appunto per dimostrarvi che io ho ottenuto questa lunghezza, io ora cerco ad andarmi un pochino di più Ok, così dovrebbe più o meno vedersi Come vedete sono molto molto lunghi, nel senso, mi arrivano qua Io sono bassa, quindi, insomma, non so cosa c'entra Però vabbè, sono una persona un po' più alta, magari questa lunghezza non è nemmeno tanto Comunque, dalle foto che vi ho lasciato dovreste aver visto come era la mia situazione dei capelli E andava avanti in realtà da circa tre anni Perché non ero mai riuscita a farli crescere E oggi vi mostrerò altri prodotti che hanno praticamente cambiato il mio capello Partendo appunto dall'integratore che poi vi faccio vedere Quindi partendo da, diciamo, le basi, quindi dall'interno curando proprio il capello E poi anche dall'esterno perché comunque i prodotti, soprattutto lo strumento che si utilizza di calore sui capelli Fa tutto perché io compro integratori e piastra Nello stesso tempo io ho cominciato tutto insieme E quindi io da subito, da subito E vi faccio vedere anche tra il passare dei mesi, insomma, con le foto In quanto poco tempo appunto sono cresciuti Quindi sono sempre molto accaldata Poi vi voglio dire che, spero mi sentiate tra l'altro Vi voglio anche dire ragazzi che ho creato il link di azione Amazon Che tra l'altro vi lascerò da oggi in poi sotto ogni video E in questo caso ci sono anche tutti i prodotti Ho creato una cartella con scritto capelli che ho utilizzato Ora io vi mostro quelli che ho Però tutti i prodotti che sono lì Io li ho utilizzati, mi sono trovata benissimo Come funziona? Perché sapete che insomma con voi non ho segreti Praticamente voi pagate lo stesso prezzo ai prodotti L'unica differenza è che entrando dal mio link ad Amazon Praticamente risulta che questi prodotti me li ho consigliati E quindi io prenderei tipo un 6% di questa cosa Però non è sempre così, comunque è un guadagno minimo Però è sempre un guadagno Perché comunque vabbè A parte il fatto che veramente vi faccio conoscere dei prodotti Nel senso io lo faccio con piace Cioè è la mia più grande passione Infatti io tipo a mia sorella e le mie amiche sto sempre là a dirgli Prova questo, prova quello, guarda questo è bellissimo Quindi ok Come vedete insomma lo faccio così Però mi hanno detto Una ragazza carissima mi ha scritto Mi ha detto visto che consigli sempre un sacco di cose Se hai detto che non lavori eccetera eccetera Insomma Ma perché alla fine è vero Io sto a casa dei miei Sicuramente grazie a questo link Non me ne andrò da sola a vivere da sola con mia figlia Ma sicuramente Questo per far capire che comunque il guadagno è veramente mega minimo Però comunque è sempre un qualcosa ok E niente Per chi avvesse piacere di sostenermi Anche da questo punto di vista Veramente a voi non cambia nulla Però io ci prendo una piccola percentuale Ecco Detto questo Man mano Perché ora non ho proprio tempo di stare a guardare A pensare a tutte le cose bellissime che io ho Perché veramente ho i case di belli prodotti E Man mano insomma vi riempirò bene questa pedrina Si chiama di Amazon Così voi condotto Ma avete voglia Mi è andata a dare un'occhiata ok E niente Detto questo Direi di partire subitissimo Allora La prima cosa di cui vi ho parlato E straparlato E' questo integratore Ma a chi me l'ha chiesto Comunque io glielo ho detto subito E invece perché ha avuto pazienza E non sa Non sapeva il nome Questo è Vito Faner Vito Faner E' un marchio diciamo Che si occupa di capelli Da Appunto Integratori Alessi E' tipo la Biascalino Ok Ma fa anche i prodotti tipo shampoo Maschera Bazzamo E' anche in serie Le creme Insomma fa un sacco di prodotti E Io questa marchio Non l'avevo mai provato Da quando ho conosciuto questo Ho cominciato a provare tutto E mi sono trovata Molto bene Con tutti quanti i prodotti Che poi hanno anche un prezzo Abbastanza contenuto Questo qua Su Amazon Io l'ho pagato Quando ho cominciato a prenderli 40 euro Ed era un 3 più 3 E tipo ci ho fatto Sì Un sacco di tempo Perché Se ne prendono due al giorno Ora non so se c'è scritto Quante capsule vengono Comunque ci si fa Quasi un mese Cioè più di un mese Comunque O un mese Non ricordo Comunque Vabbè Fatto sta che Questo Io ve lo lascio nel link E Dopo vi andate insomma A leggere tutto quanto Se vi va E la cosa Bella Diciamo Per chi volesse provarlo È che Adesso costa 20 euro Due boccette Quindi Super Infatti lo riacquisterò Anche io Perché come vedete È praticamente Quasi finito Oggi non l'ho preso Allora Che dire di questo Integratore Ah che tra l'altro Mi sono scordata Di dirvi Vi fa crescere Tantissimo Le unghie Guardate Io Queste sono Le mie unghie Ve le faccio vedere Per sotto Sono un po' macchiate Perché io fumando Si ingialliscono Comunque Queste Sono le mie Unghie Naturali Cioè io Ero una Mangiatrice Seriale Di unghie E Da piccolina Vabbè Le ho provate tutte Tipo Papà mi comprava Lo smalto Quello amaro E tanto io le mangiavo Insomma Fin quando Non ho conosciuto La ricostruzione Il momento Che non le tenevo Mi dava la pazza gioia Quando le avevo su Non è che le mordicchiavo Però quando non le avevo Tornavo appunto a capo Perché la mia tecnica era Ho l'unghia Mi faccio fare la ricostruzione Quando devo andare a fare Tipo Il refill La terza volta Che ne so Che le rifaccio Vedo che sono abbastanza lunghe Tolgo tutto E poi me le tengo Ma non ha mai funzionato Perché poi puntualmente Continuavo a mangiarle Vabbè Crescendo comunque Un po' Di mangiarle unghie Me ne è venuto anche lo schifo Perché insomma Con le mani Si toccano un sacco di cose Io sono diventata Molto più Schizzinosa Se si può dire E quindi Tra una cosa e l'altra Veramente Ho smesso Cioè È raro È raro Che io mi mangi le unghie Ora non lo faccio Perché appunto C'ho il gel sopra E per me Questa è la soluzione migliore Per diciamo Non avere tentazioni Ecco A parte che Appunto Essendo una mangiatrice Di unghie Le mie unghie Erano molto molto Debole Fatto sta Che questo integratore Mi ha fatto crescere appunto Sia i capelli Che le unghie E me le ha Rinforzate appunto Quindi ragazzi Se lo volete provare Veramente Vi dà un sacco di benefici Contiene la Biotina Che ovviamente È il La proteina Se non sbaglio Responsabile Della crescita Di capelli Però no Quegli ingredienti Non ce li dà Comunque Due capsule Al giorno Si prendono E che dirvi Inizialmente Io Perché Vabbè A parte Sono abbastanza Regolare Con queste cose Cioè Se so che Devo prendere Una pillola Insomma Sono abbastanza Abituata Se so che Devo prendere Un tipo di Farma Con integratore Insomma Quello che Non è che Me ne dimentico Perché molte persone Mi dicono Eh ma poi Mi scordo Se veramente Per te ne vale La pera Non ti scordi Quindi Insomma O si mette Una sveglietta Qualcosa In un mese Io vi garantisco Che vedrete La differenza Perché va bene La lunghezza Ma vi giuro Che i capelli Non piccadono Non piccadono Cioè Io avevo Quattro peni In testa Perché già Sono molto Molto fini Li perdevo Anche Quando facevo La doccia Avvio Ficciuffi Io adesso Anche se li piattino Sotto la doccia Veramente Ci saranno Che ne so Dieci capelli Pochissimi Quasi niente E proprio per dire Che magari Mi li sono tirata Mi li sono strappata Quindi Compante anche La caduta C'erano Delle mamme Insomma Che mi hanno scritto Riguardo questo integratore Perché post Gravidanza Si sono trovate Mette peracchiate Come me Perché Come ben sapete Anche io Ho una figlia E Però Veramente Questo L'ho preso Ovviamente Quando mi era Molto più grande Quindi Il postparte L'ha già passato Però comunque La capoccia Speracchiata Mi è rimasta E quindi Ragazzi Io Già Giorno per giorno Noto miglioramenti E mi sono trovata Benissimo 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 Veramente Quindi ve lo faccio Rivedere E così Le capsuline Sono rosse Allora Le capsuline Che hanno proprio Un buonissimo 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 Sapore Tipo Puzzano L'integratore Mi direte Che puzza L'integratore Spero che qualcuno Mi capisca Però Sono Sono un po' così Però Vabbè Si fa lo sforzo Nel senso Dere putti giù È buona Perché Tra l'altro Devi prendere Due tutte insieme E quindi C'è Nel senso Una volta che l'hai fatto Passa paura E quindi Questa è stata La mia cura Dall'interno Fantastica Veramente Faccio un po' di Topic Molto bene Quindi Questo era Per quanto riguarda Appunto La cura Dall'interno L'integratore Famoso Di cui Vi ho straparlato Poi Passiamo A un'altra cosa Che è una cosa Esterna Che però Per chi Le utilizza Magari tutti i giorni Per necessità Io ad esempio Questo è il mio capello Mi sono fatta Ad oggi Era poco Sono ancora Un pochino Umidi Tra l'altro Proprio per Farla Insieme a voi La piastra E Praticamente Vi dicevo Io ad esempio Non riesco Ad uscire Cioè Se dico Di uscire E non faccio La piastra Non mi sento Sistemata Al meglio Perché comunque A parte questa Che è fantastica Ti lascia Proprio effetto Parrucchiere Perché La usano I parrucchieri Ma non rovina Non rovina il capello Però vi spiego Tutto A breve Comunque Vi dicevo Che per chi Usa la piastra Questa è veramente L'alternativa Un po' costosa Ma che vi salva I capelli Perché Prima io utilizzavo Una della bellissima In ceramica Io sentivo proprio I capelli Che puzzavano Di mezzo bruciaticcio Non lo so Però usavo La piastra Classica Il fatto di avere La Come si chiama La black In ceramica Dicevano Che rovinava Di meno i capelli Ma non era vero Perché io Per necessità Di lavoro Appunto Ogni sera Mi facevo la piastra E ogni giorno Mi lavavo i capelli E quindi Potete ben capire Che non Non era il massimo Ecco Comunque poi Ho fatto questo Change Ho detto Voglio investire In un buon prodotto E mi sono messa A fare Delle ricerche Appunto La mia Come dire Scelta Perché Era più conosciuto Quello che è Era quella Della GHT GHT La volevo Però Poi Ho visto Insomma Io mi informo Molto bene Per queste cose Perché Comunque È una spesa Io la pagai 4,80 Mi pare O 4,30 Sto confondendo Il 3 Vabbè Comunque Sui 400 euro E Me la sono Diciamo Mezza regalata Insieme ad altre cose L'anno scorso Perché ero un po' Folle Spendevo tutti i miei soldi Così E questo E questo Devo dire Che è l'unico A questo Fatto Che è veramente Servito E mi ha aiutato In qualcosa Va bene Dovete anche altri Però E quindi Vi dicevo Che è un investimento Vero e proprio Però Se magari Uno dice Risparmio Compro La GHT Non è lo stesso Effetto Perché la GHT È bellissima Ma secondo me Per chi fa tanto uso Di piastra Alla lunga Va troppo A danneggiare Il capello Quindi Vediamo L'oggetto Misterioso Vi sto parlando Ora è spenta E l'avete già vista In molti miei video Perché io uso Solo questa Sto parlando Della Piastra A vapore 4 Mi pare Sì È la 4 Comunque Poi la trovate Anche questa Sotto il link Se voleste Insomma Acquistarla La provate La provate In reso Non lo so Comunque Questa piastra Allora ve la giro Per mostrarvi Che questa piastra Come vedete Ha il serbatoio Perché appunto È a vapore E Che dire Di questa piastra Ah Che dire Ve lo dico io Questa piastra Mi ha bruciato Il sedere Che mi Insomma Mi ha seguito Saprà che Mi sono fatta Una bella scottatura Così larga Da una parte Così larga Da un'altra Così Pack Io ho questa Bella forma Spiacicata Sulla mia Chiappa Sinistra Su TikTok Vi ho messo il video Appena successo L'incidente Quindi se lo puoi Andate a vedere Forse anche qua L'ho messo Però Non ricordo Vabbè Comunque Sarò marchiata Viterà la steampot Quindi Quindi va bene Allora Ora Tocco le conflette Perché Mi stanno Tanto Mi stanno dando Un pochino Di fastidio E Che dire Praticamente Praticamente Questa piastra È a vapore E il vapore Come pensa Prete C'è questa Di piastra Non tanto Con il calore Delle tue piastre Che ti prendono Il capello Ma del vapore Con cuore L'accendiamo E vi mostro Vabbè Io sempre al massimo Perché comunque Non posso farne meno Da sempre Per sempre Io piastro al massimo Perché se no Non funziona No Non è vero È solo una mia cosa Tra l'altro Mamma mia Tra l'altro Voglio Mettermi Con voi Questa qua Sta scaldando Ok Ha finito E Niente Allora Vi dicevo Che voglio mettermi Questa crema Che ho comprato Da tre giorni Perché come vi ho detto Nel video Mi struccavo Mi sono venute Delle bolle Sulla fronte Cioè Il mio corpo Mi grida Che sono stressata Ma io non lo so Ve l'avevo già detto Ho anche problemi Di stomaco Che paureti E E niente Comunque sto facendo Sempre degli esami Cioè ragazzi Basta Mi sono staccata Ogni cosa che mangio Mi fa avere la pancia gonfia Tolorante Non ne posso più E adesso Anche le bolle Cioè io Prendo Comunque Non faccio una cura Io faccio una cura Ormonale Per cui È veramente Strano Che io abbia le bolle Comunque Sono bruttine Ma Che dire Dopo faccio un altro video Soprattutto Questo Perché mi devo preparare Faccio Un get ready With me Dove appunto Vi racconto Del mio viaggio a Napoli Un po' tardi Ma meglio tardi Che mai Allora Questa Non ve ne parlo Più di tanto Perché appunto La voglio prima testare Però vi dico Che è Della fan Tra l'altro Basta Lo cominciare a registrare Con la videocamera Perché A parte che Si vera al contrario Non si vede manco più Tanto bene Comunque Cleanance Oddio Ma Woman Ma Woman Maschio Femmina Woman Woman Aiuto Non lo so Ma perché Woman E donna Cioè Puh vabbè Raga momento di panico Perché non sono pratica D'inglese Ma woman E don Uomo Vabbè No no Penso sia da donna Che ignoranza La mia Comunque vabbè Costava 35 euro Tipo E l'ho trovata Col 15% Di sconto Allora che fai Tieni privi Stava proprio lì E E niente Praticamente Dici che è un trattamento Allisciante Per la Pelle irregolare E anti imperfezioni Boh Ha un profumo Molto Molto Forte Mi sa proprio di Crema Crema di ricco Io lo metto Solo appunto In queste zone Dove Voglio Voglio Essere curata Questa crema Ok Adesso Come Penso a prendere La mia pelle Super mega Delicata Divento subito rossa Comunque A brevissimo Passa Non vi spaventate E Niente Allora io direi Ora Di cominciare Con la piastra E tolgo le cuffiette Le butto a terra Così Senza Ritegno Vergogna Allora Perché la faccio insieme a voi Uno perché mi va Due cose Almeno vedete Quanto Insomma Che bell'effetto E quanto fa veloce Allora I miei capelli Sono ancora Levemente Levemente Umidi Sì Perché i magnati Non sono Però comunque Io la utilizzo uguale Non ho mai avuto problemi Perché alla fine Tanto tutto vapore E Avevo visto una macchia strana Sulla piastra Pensavo fosse tipo Il mio sedere Attaccato Manco Allora Che dire Io Non utilizzo Spazzolo Pettini Diciamo Particolari Questa Della Melissa E passa paura Quindi Vado Ho una cuffietta La tengo Perché io spatto Ovunque Interessante Vabbè Comunque Ah Non vi ho fatto vedere Con cosa Le ho lavati oggi Aspettate Allora Appena recuperati Dalla doccia Perché sono Anche Bagnati Vi faccio vedere Che sto utilizzando Questi due prodotti Al momento Perché Essendo estate Comunque Dopo l'estate Li devo tagliare Assolutamente Le punte Perché sono Molto molto Secche Rofinate Vecchie Decolorazioni O al momento Sto utilizzando Questo Della Evive Che mi piace Un botto Per a capelli Lunghi Dice E lisci Da sogno Di questo Fanno anche Il Wonderwater Mi pare Si chiami Il balsamo Lamellare Liquido Che si mette Sulle ponte Però Non l'ho mai provato Fatemi sapere Se qualcuno L'ha provato Perché costa Un po' Quindi Se fosse Una cioffega Insomma Mi dispiacerebbe Quindi fatemi sapere Qua dice Il nostro shampoo Ricostruttore In una formula Trattamento Cremosa È perfetto Per dire Bye bye Le lunghezze Danneggiate Assottigliate Deterge In modo ideale Dalle radici Alle punte La nostra formula È rilichita Da un potente cocktail Di ingredienti Geratina vegetale Per ristrutturare I tuoi capelli Fino alle punte Vitamine Per rendere I tuoi capelli Più forti Olio di ricino Per nutrire E donare Luminosità E mantenere I tuoi capelli Risciacquare Con acqua A fredda Per rendere I tuoi capelli Più lucenti Per favore Chiudi Robino Sotto La luce Quindi ecco Costa Solo le 3,40 euro Ma è veramente buono E ha un buon profumo Vi dico Proprio Delicato Comunque Un buon profumo E Poi Come balza E già questo Basterebbe Perché è veramente Molto buono Come balza Ma invece Sto utilizzando Anche questo Lo potete trovare Nella lista Diciamo di Amazon Dei prodotti E questo proprio Si dice Non hai tempo Non serve Tenerlo in posa Nutile intensamente Senza Appesantire Quindi insomma L'ho trovata In offerta Mi è piaciuto È della L'Oreal Dell'Elbe Un trattamento Intenso Altamente Concentrata Arrecchita Con un aminoacido E ore di Jojoba Jojoba Sì Sono 180 ml Anche questo Un po' Costava Però vi dico Per appunto Capelli secchi È il top Del top Io ho anche Letteralmente Cioè lo prendo un pochino Lo metto sulle punte E pettino Anche senza pettinare Con le mani Si districano Super bene Anche questo ovviamente Ha un po' Un profumo Come quasi Un prodotto Dei pallocchieri Ecco Quindi Detto questo Ci sono Dai Prima di piastrare Che è l'ultima cosa Che farò Perché magari Chi si annoia A vedere la piastra Poi Insomma Può Chiudere il video Qua Cioè continuerò A parlare Però A non tutti Magari può piacere La piastra Quindi prima Vi parlo di questi prodotti Così Con i prodotti Abbiamo terminato E anzi Mi spiace Che non ne ho Tanti altri Però Va bene Allora Qua troviamo Questa crema Della Bio Point Della quale Però sta troppo alta Ragazzi La faccio Anche altri prodotti Altri olietti In alto Però va bene Vi faccio vedere Questo Comunque la linea è questa Questa è la crema E quello che ho Su in alto È lo spray Che ho Tra l'altro Utilizzato di più Questa per finirla La sto Cioè non per finirla Per usarla Più che altro La sto utilizzando Adesso Qua ci dice Aspettano Italiano Miracle Liss Settosità E leggerezza Per capelli Lici Fino a 72 ore Una speciale crema Ultralisciante Dalla texture Soffice Che rende il brushing Molto semplice E veloce Per capelli Più lisci Più a lungo L'effetto crespo È eliminato I tuoi capelli Sono lisci Morbidi E nutriti Un esclusivo Complex A base di Geratina Etrolizzata Che riempie L'irregolarità Della vibrocapillare Levica La cuticola E la ricopre Con un film protettivo Protegge il capello Dal colore Di fonna Dal calore Di fonna E piastro Mentre l'effetto liscio Fino a 72 ore Insomma Una questione Mi piace Anche questo Ha un buon profumo E Ho provato Di meglio Cioè tipo La kerastase Maroccan oil Però Comunque Per essere prodotti Tra virgolette Non troppo Da supermercato Però eccoci Siamo lì Costranno forse Sulle 3-4 euro In più Da quelli da supermercato È più che Fattibile Per cominciare Per utilizzare Insomma Prodotti Se magari Non li usate Ecco Poi vi faccio vedere No sì Giusto due Perché tanto Questo qua Che Mi ricorda molto Appunto Uno di Maroccan oil Che trovate Sempre sul mio Amazon Però questo Me l'ha dato La mia parrocchiera E Niente Questo qua È quello che Sto utilizzando Più che altro Per finirlo Perché basta Mi sono stufata Ne voglio prendere altri Ce l'ho da troppo tempo Però Però è un prodotto Infinito Quindi Ora Tolgo le cuffiette E comincio a fare La piastra Mi allontano Anche un pochino Vedete È molto veloce Come Diciamo Piastra Cioè Volendo Vrebbe già fatto Però Continuo Guardate Mi piace Perché Rende il capello Lucido E piatto Senza crespo Appunto Per questo vapore È bello È bello 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 L'effetto Li faccio un po' Evaporare Perché mi sta andando Tutto il vapore Sul collo Sto sentendo Un sacco di caldo Comunque Allora Come vedete La differenza Con solo Qualche passata Così E qua Che vabbè Sono ancora Tutti belli Crespi Confi Ho fatto Un esercizio Di camp Ragazzi Per stare In quella posizione Cioè Bellissimo Io sono L'anti-atleticità Allora Proseguo Da quest'altra parte Ripetino Questa piastra Tra l'altro Viene anche Con i dentini Che si possono applicare Perché Non so se vi siete mai Ritrovate a fare La piastra Con la mano Un pettine La piastra sotto Questo viene Con i dentini Annessi Che ti pettino Già Io non li utilizzo Perché tanto Non è che ho bisogno Di quel liscio Liscio Perfetto Però Sicuramente Per chi viene da Un bel riggio Può aiutare A proprio Infatti Questa piastra Viene utilizzata Molto dalle persone Che hanno Quel riggio Forte Comunque L'ho vista Utilizzare Ecco Anche da loro Perché Il vapore È molto meglio Per quel tipo Di capello Quel tipo Di capello E invece Levantano i capelli Che caldissimo, caldississimoo ok ok allora, madonna non entro allora io solitamente ho arrivato a questo punto che mi trovo soddisfatta insomma del liscio devo girarmi, faccio quasi gli pettino all'indietro vi faccio vedere così, e poi, madonna mia però le ho mettete le mollettine sono tutte schiatte e mia sorella mi si è fregata anche l'acqua termale quindi non me la posso spruzzare, vabbè, comunque arrivato a questo punto io cosa faccio? prendo e vado da dietro con un dito ad alzare questa parte indietro così e me la passo perché quante volte avete visto davanti piastra top e dietro tutta la ciuffetta no vi insegno questa cosa è qua che dovete piastrare bene all'attaccatura della testa ovviamente seguendo il il verso insomma del il capello e vado ovviamente anche sotto perché poi se non fai questa roba quando ti ritiri all'indietro si vede è gonfio e io li voglio lisci vedete io qualsiasi c'è un camelà piasto proprio per dietro fino alla lunghezza sembra sembra un parto questa cosa però vedete cerco di alzarmi eccoli sono liscissimi basta tutto questo gym non sono abituato continuo continuo sta vedermi che buon orecchio di realtà ok ci siamo allora 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 amici questo è tutto come vedete i capelli sono super lisci super lucenti ora voi magari non lo vedete tanto bene perché dal video è così e niente fatemi sapere se proverete appunto questi prodotti che vi ho consigliato ripeto se avete intenzione di provarli potreste prenderli dal mio link però se no fate come volete e e nulla io come sempre appunto vi ringrazio per aver guardato questo video se vi va appunto commentate io vi rispondo a tutti e le ecco tutto un piacere eh andatemi a seguire insomma su uc che li pubblico molto più spesso rispetto a youtube praticamente tutti i giorni pubblico delle storie e per chi insomma vuole scrivermi scrivetemi non fatemi problemi ecco e niente vi mando un grande grande bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao